C'è a cantare, c'è a cantare elegamente, so per l'amore una mia morosa, so per l'amore una mia morosa. Questa iniziativa è nata tre anni fa, questa è la terza edizione, il numero sta crescendo e si sta creando una bellissima tradizione. Nelle nostre scuole, nelle scuole Steiner Waldorf, noi investiamo moltissimo nell'arte e nell'insegnamento della musica, perché per noi la musica è proprio l'arte sociale per eccellenza, che educa l'ascolto, che educa la volontà, il rispetto e che pone come fondamenta proprio nei cuori e nell'anima dei ragazzi quelle basi che poi gli serviranno nella vita. Quindi non c'è una finalità, come dire, solamente estetica, non tutti loro saranno musicisti, magari di professione, ma per noi qui oggi davvero ognuno di loro è un musicista. Grazie a tutti. Grazie a tutti.